Nella seduta di oggi del Consiglio Comunale sono stati approvati provvedimenti relativi ai lavori di somma urgenza per il ripristino di alcune strade e manufatti fognari coinvolti in una voragine e da quelli per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico Principe di Napoli. All'ordine del giorno era stata prevista inoltre una riunione monotematica sul tema futuro di Bagnoli, aree exit al Sider, ma sull'argomento si è deciso di discutere subito dopo la conclusione della predisposizione del piano di rientro a causa dello sforzo straordinario che si sta compiendo in questi giorni. Abbiamo questa settimana da dedicare al piano di rientro che richiede uno sforzo tutta l'amministrazione e dobbiamo approvarlo entro il 28 di gennaio. Il 25 c'è una monotematica sul patrimonio che è uno degli elementi fondanti del piano di rientro per garantire appunto nei prossimi dieci anni una capacità di entrate notevoli e quindi abbiamo chiesto al Consiglio di rinviare la discussione su Bagnoli subito dopo la seduta dei primi giorni di febbraio, quindi non è un rinvio per sottrarci al dibattito ma solamente per esigenze legate all'approvazione del piano di rientro.